ciao a tutti ammetto di essere una persona un pochino carogna e quindi siccome mi hanno massacrato per degli errori di base di tedesco volevo far notare che su un giornale scritto penso dai professionisti non ne sono sicura ma saranno professionisti c'è stato un errore in questo video non vedrete la mia il mio bel faccino da schiaffi perché sono in condizioni orribili non sto tanto bene oggi finché stavo al supermercato stava ancora bene adesso c'è un po di problemi comunque il giornale si chiama o oppure non so un altro nome penso che sia ok qui hanno fatto un errore e io me ne sono accorta cioè o meglio io l'ho letto giusto poi mi sono accorta che era scritto diverso e poi non capivo perché mi chiedevo perché non c'è il genitivo e ho pensato com'è che è sbagliato perché è sbagliato stavo sclerando gli ho chiesto ogni uomo il quale mi ha confermato che è un errore anche i tedeschi fanno errore non solo quando parlano ma pure quando scrivono eppure quando scrivono sui giornali che non si dovrebbe fare che non si dovrebbe fare non lo so se non si dovrebbe fare se non è accettabile da me degli errori di base mi chiedo se sia accettabile un errore da parte dei madrelingua ma questa polemica è assolutamente inutile perché queste persone qualunque errore io faccia mi crocifeggeranno e quindi io continuo a cavalcare l'onda semplicemente perché sono una persona litigiosa e cattiva e ho i miei obiettivi per questo canale e quindi lo dico così alla faccia loro giusto per perché si inculino perché abbiano una vita felice e molto interessante soprattutto grazie a tutti e un bacione